È stata aggiudicata la gara d'appalto per la fornitura, il montaggio e la posi in opera di attrezzature di gioco per bambini e altri elementi di arredo urbano per i parchi comunali di Altamura, compresi di interventi e accessori. Preveste inoltre giostrine per bambini diversamente abili. A comunicarlo è l'amministrazione comunale, la quale fa sapere che l'importo complessivo per i lavori ammonta poco più di 101.000 euro e che ad aggiudicarseli è stata un'azienda della provincia di Udine. La consegna dei giochi, tutti in legno a chilometro zero e verniciati nel rispetto della normativa europea silo a sicurezza, è prevista in 120 giorni. Ad essere interessati saranno i parchi gioco Il Boschetto in via Treviso, La Fornace in via Minniti, Baby Park in via Matera e le aree verdi site in piazza Don Tonino Bello, via Londra e piazza Stazione. Erano anni, ha dichiarato il sindaco Giacinto Forte, che la città non si dotava di attrezzature per il gioco dei bambini all'interno dei parchi pubblici. Questi ultimi, infatti, stavano perdendo la loro caratteristica identitaria a causa di una mancata fruizione proprio da parte delle famiglie che accompagnavano i propri bambini e ragazzi a giocare, o semplicemente per rilassarsi un po'. Il primo cittadino ha ringraziato il consigliere comunale Mimmo Laterza, il dirigente del sesto settore lavori pubblici, ingegner Vittorio Di Fonzo, il responsabile del procedimento, architetto Caterina Natale e il direttore dei lavori, geometra Francesco Fiore. Il nostro obiettivo, ha concluso il sindaco Forte, è stato e sarà quello di aumentare la fruizione dei parchi pubblici comunali da parte di famiglie e bambini. L'auspicio è che i cittadini li rispettino e se ne prendano cura, affinché loro stessi diventano sia fruitori che controllori.